Il mio ruolo è come direttore dell'osservatorio Fintech di InsurTech e dare un po' allo stato la situazione di quello che è il settore dell'InsurTech in particolare. Cercherò di darvelo col doppio punto di vista, sia lato domanda che lato offerta. Lato domanda, inizio con la componente di domanda, il consumatore, ve lo anticipo perché vi avrò qualche dato, il consumatore di servizi assicurativi è pronto, soprattutto abituato da questo periodo di pandemia, è pronto per moltissime innovazioni e sta affruendo tutte queste innovazioni. Qui vedete il livello di utilizzo forse più semplice nel mondo assicurativo, possiamo dirlo, che è quello dell'acquisto di polizze assicurative in digitale. Da questo partiamo, vedete che in qualche modo è un qualcosa già penetrato all'interno del mercato. Entriamo invece però a vedere qualche elemento un po' più distintivo perché non tutto l'acquisto, tutto il processo di acquisto di servizi assicurativi funziona allo stesso modo. Vedete che alcune categorie, le assicurazioni vita, le assicurazioni salute, ancora hanno una componente anche fisica estremamente importante, questo lo possiamo comprendere anche quando parliamo di consumatore. Poi parleremo anche brevemente di imprese, piccole e medie imprese, però il consumatore in qualche modo è già particolarmente predisposto. Vedete che per alcune assicurazioni particolarmente frequenti o perlomeno su cui il consumatore è abituato, come possono essere quelle del mondo viaggi, il processo digitale è già estremamente forte. Anche però per quelle assicurazioni un po' nuove come parliamo di quelle legate alla cyber security, elementi un po' più innovativi in termini di bisogni. E questa è un po' la situazione sulla componente un po' più standard, consideriamola questa. Poi iniziano le componenti un po' più innovative o perlomeno di frontiera su cui ci occuperemo nel futuro. Ed in particolar modo possiamo prendere riferimento all'open finance e di conseguenza anche all'open insurance, tutta questa componente di apertura di nuove modalità con cui creare, sviluppare, fare innovazione nel mondo assicurativo. Qui il concetto, non abbiamo il tempo di approfondirlo, ma parte in primo luogo dal dato. E qui vedete quanto i consumatori italiani sono disposti, predisposti a condividere i propri dati, a metterli a disposizione e questo generare quell'innovazione che l'open insurance può garantire. Vedete che parliamo del 82% dei consumatori italiani già predisposti a condividere questa informazione. E questo è un potenziale estremamente significativo verso questa dinamica. E' chiaro che è una situazione chiaramente differente. Se prendiamo servizi dove il consumatore ha una coscienza un po' più forte della presenza di prodotti sul mercato, ha ancora, e qui parliamo delle proprie abitudini di guida, di assicurazioni basate sulle informazioni legate alle abitudini di guida, parliamo di una predisposizione ancora più forte. Per cui qui, chiaramente, anche rispetto a questo concetto un po' lontano e a volte anche un po' fumoso, che spesso viene utilizzato anche come buzzword, ma ha una forte concretezza, perché ne stiamo vedendo chiaramente i risultati, quando il consumatore lo comprende, l'ha capito, è fortemente predisposto a fruirne. E questo è un ulteriore elemento a conferma di quello che vi ho detto all'inizio, della predisposizione verso il consumatore, verso l'innovazione. Passiamo allora a questo punto una componente dell'open insurance, l'embed finance, e qui vediamo quanto è disposto a fruire di servizi assicurativi quando è nel processo di acquisto o di interazione con un attore non assicurativo, come quando io compro un volo aereo e vado ad acquistare anche l'assicurazione. Qui vedete abbiamo fatto una serie di casistiche poste dal consumatore italiano per comprendere se in un momento in farmacia, in momenti legati al mondo della salute, sono predisposti, in bed finance, predisposti per acquistare anche un servizio assicurativo. E anche qui le indicazioni sono positive, non riesco a entrare nel dettaglio, poi se volete possiamo chiarire il caso specifico, perché è chiaro che qui entriamo in una sofisticazione anche dal processo di proposizione e di creazione del prodotto nei confronti del consumatore finale. Qui vedete proprio questo concetto dell'embede quanto diventa forte, estremamente forte, se guardiamo tutti i vari attori. Qui vediamo i siti di viaggio, mentre prenota il viaggio, cosa che ormai è frequente, il consumatore è estremamente predisposto, ok? Per cui parliamo veramente di una predisposizione in questa direzione. Possiamo anche entrare un po' più nel dettaglio tra le categorie di cliente, qui vedete quando, soprattutto nella componente di destra, quando l'età influenza questa necessità. Beh, vedete che in alcune categorie di prodotti, vedete nel caso in cui sito di e-commerce, farmacia, c'è una predisposizione, un atto incipiente un po' più forte quando parliamo dei consumatori più avvezzi al mondo digitale. E qui siamo nella parte un po' più di frontiera dell'innovazione, soprattutto in termini di predisposizione del consumatore. Se andiamo invece sul mondo a chiedere a questi consumatori, da chi acquistereste questi servizi, nonostante siano predisposti a fare esperienze nuove, a fruire di servizi innovativi, comunque rimangono fortemente legati al mondo finanziario. Quando gli chiediamo dove, da chi acquistereste un servizio innovativo, e questo è estremamente significativo. Qualcuno di voi potrebbe dire, ebbè è naturale, normale, da chi compra un servizio assicurativo. Ok, questo non era così normale invece nel mondo bancario, ultimamente, perché nel passato anche per i servizi di pagamento tendenzialmente era il mondo bancario il riferimento. Assoluto, per i servizi di pagamento. Ok, bene, la stessa domanda fatta nel mondo bancario, in questo momento, è completamente all'opposto. C'è una predisposizione, chiamiamola predisposizione all'infedeltà, nei confronti del mondo finanziario, che è estremamente forte quando i consumatori hanno compreso che un determinato servizio lo possono attivare, acquisire da altri attori. Si parte dalle start-up, si parte da anche attori non prettamente finanziari. E questo qui è un elemento che da una parte al mondo assicurativo dà una certa sicurezza, dall'altra serve una costante attenzione che attori alternativi non possano generare questa dimensione di infedeltà che si è già manifestata in vari altri servizi finanziari. Se vi prendo i servizi finanziari più standard nel mondo bancario, forse un livello di fedeltà che abbiamo visto in questo grafico c'è solo per i servizi di gestione del risparmio, ma non così forte. Per cui questo rimane un forte asset nel mondo assicurativo. Da comprendere quanto rimarrà. E qui vedete invece, quello che vi avevo promesso, quanto invece le piccole e medie imprese sono digitalizzate. Le piccole e medie imprese invece c'è una condizione molto standard, molto tradizionale. Anche se hanno imparato qualche componente più innovativa durante la pandemia, le piccole e medie imprese hanno un approccio molto più storico a quello che è il mondo assicurativo. Questo per completare anche la visione. Abbiamo visto il consumatore, abbiamo visto il mondo delle piccole e medie imprese. Ovviamente anche legato al tema della complessità con cui devo gestire l'interazione. E poi un processo delle piccole e medie imprese di adozione e soluzioni digitali molto molto più lento. Sono 23 anni che al Politecnico studiamo il processo di digitalizzazione. In maniera, su tutte le componenti abbiamo ormai 52 osservatori. E questo è abbastanza naturale da capire se questo continuerà anche nel futuro. L'abbiamo visto per altri servizi molto più lontani come la fatturazione elettronica che poi certe dinamiche hanno preso una direzione forte. Vado adesso sull'offerta. E parto dall'offerta innovativa. L'offerta innovativa, qui vedete le start-up InsurTech negli ultimi anni nate in Italia. Ok? La missione del cerchio è la quantità, il grafico è l'accumulata delle start-up. E qui vedete che c'è stata una crescita ma stiamo vivendo un po' un flesso. Evidentemente legato anche all'incertezza che è stata geopolitica, legata anche alla pandemia. E nell'ultimo anno, complessivamente sono a disposizione, 100 vere realtà InsurTech. Nell'ultimo anno abbiamo avuto la crescita minore degli ultimi anni. E questo proprio dà un segnale della forza con cui l'innovazione in questo momento sta spingendo. Qui vedete i numeri ulteriori di dettaglio, quanti sono stati i finanziamenti nel 2022, quanto è l'accumulata nel 2009 e il numero complessivo. Questo per darvi qualche elemento sulla componente di offerta innovativa. Ulteriore elemento, che tipo di tecnologie, che tipo di innovazione fanno queste start-up? E qui vedete in maniera chiara che sono focalizzato su quello che è la componente più importante e alla base del mondo finanziario in senso generale. Questo vale anche per il mondo bancario e tutte le declinazioni del finance. Che è la gestione al rischio. Gestione al rischio che viene gestita in primo luogo con cosa? Attraverso il dato. Ok, perché la gestione al rischio, finché da che esiste in qualche modo un certo gestione al rischio, è il dato la componente più importante. Di sconseguenza le tecnologie più sviluppate da queste start-up sono legate ai API per trasferire i dati in maniera più efficace, al cloud per gestirli, intelligenza artificiale per elaborarli in maniera più efficace e ottenere il vantaggio competitivo necessario per essere più competitivi sia nei propri processi interni che nell'offerta finale. E così via. Vedete qui un po', per darvi un'idea. Ultimi elementi che vi vado a darvi. Noi abbiamo questa bella iniziativa con l'Italian InsureTech Association di dare un voto ogni anno, un voto sull'InsureTech in Italia. Bene, l'ultimo anno vedete che in trentesimi non abbiamo raggiunto la sufficienza, non era stato così negli altri anni. Siamo arrivati a 14 trentesimi, gli anni scorsi arriviamo appena sopra la sufficienza, il mutato contesto geopolitico e evidentemente l'incertezza ha arretrato in maniera estremamente forte le partnership, gli investimenti in InsureTech all'interno delle compagnie assicurative italiane. Per cui questo dato è costruito sulle compagnie, sugli incumbent, sulle compagnie assicurative già presenti sul mercato. E vedete che c'è stato un rallentamento rispetto all'InsureTech. E allora, questo è dato da una serie di componenti, partnership, investimenti diretti e investimenti interni. Vedete che c'è stata o una situazione di calma o un aumento consolidato delle partnership, perché? Perché ho investito di meno, di conseguenza devo sfruttare ulteriormente le partnership. Ma vado a darvi qualche elemento invece sul futuro e vado a concludere. Cosa fanno le compagnie italiane? Le compagnie italiane nell'ultimo anno si sono focalizzate al proprio interno. Proprio questo è meno verso l'esterno in termini di investimenti, di lavoro, partnership con attori innovativi. In realtà sono tornate, sono tornate a, da una parte, valorizzare gli investimenti nel passato e ulteriormente a migliorare i processi interni. Queste sono le dichiarazioni, vedete, con un campione estremamente significativo delle compagnie assicurative italiane, il 79% si focalizza sui processi interni e processi legati a questo elemento. Perciò vedete, abbiamo visto da una parte la componente di domanda pronta, disponibile, quando l'innovazione funziona, la fruisce, è anche predisposta, contrariamente anche l'idea, a abilitare servizi innovativi e fruirli. L'abbiamo visto tantissime volte con tanti servizi nel mondo finanziario. Dall'altra parte, correntemente anche con le caratteristiche del settore, un'offerta, un'innovazione che in questo momento sta sentendo in maniera forte il contesto attuale, ma che ha questo potenziale da sfruttare e in questo momento, possiamo dire, una situazione agrodolce, non è completamente sfruttato. Per cui, dal mio punto di vista, dopo 23 anni di lavoro sull'innovazione digitale, questo è il classico contesto in cui nascono tante opportunità. Io con questo spero di avervi dato una visione non troppo negativa, ma anzi positiva, di un settore che comunque ha tante opportunità da sfruttare. Vi ringrazio. Grazie. 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 Grazie a tutti.